eccoci qui cose di calcio non finisce perché ancora abbiamo il girone b della serie c lo andiamo a vedere e poi lo commettiamo insieme a fermo passa la reggiana ribadendo la voglia di vivere al tavolo delle grandi il primo gol arriva su calcio di rigore mancino piatto imparabile per il portiere lo segna rosafio al tredicesimo con un altro gol che arriva su calcio di rigore è montalto al diciassettesimo la reggiana raddoppia e poi triplica nella ripresa con questo morbido pallonetto autore pellegrini al nono fermana 0 reggiana 3 grande partita degli ospiti un gubbio british supera il siena per 2 a 0 e legittima la grande prima parte di campionato dei russo blu umbri calcio di punizione indiretto palla in rete di potenza segna vasquez al 45esimo nel corso della prima frazione troverà raddoppio con toscano l'ottantacinquesimo e annulla peserà l'espulsione di bonini al 93esimo tre punti davvero aurei nonostante l'orgoglio del sandonato tavarnella e bisognoso di punti il cesena deve fare i calcoli con la sua ambizione vince 3 a 2 al dino manunzi davanti al suo pubblico passando per primo con questa azione acrobatica che di testa manda il talentuoso corazza in rete dopo appena sei minuti il raddoppio dei romagnoli bianconeri arriva qui con questo prezioso diagonale che batte l'estremo difensore ospite Adamo al decimo c'è poi al 46esimo questo gran tiro deviato sotto misura posizione di partenza regolare accorcia le distanze Ubaldi a inizio secondo tempo fa bene questa volta le vicende aritmetiche il cesena che chiude con questo tiro di punta di corazza autore di una doppietta il conto sul 3 a 1 anche se tre minuti dopo è russo a mettere in porta sempre di punta quasi da calcio a 5 il 3 a 2 tre gole tre punti restano al cesena ci è voluta molta fatica per il fiorenzuola per aver ragione del rimini che passa per primo al sedicesimo della ripresa con questa bella azione finalizzata dal colpo di testa di del carro lasciato troppo solo da mezza difesa della squadra di casa brava tuttavia a reagire sotto misura trovando il parigi dopo soli sei minuti il gol è distronato l'uno a uno poi verrà sbloccato all'ottantottesimo grazie all'intuizione di frison su azione da calcio d'angolo il fiorenzuola batte il rimini 2 a 1 e continua a sognare da grande al tavolo borghese di questo specifico raggruppamento e se i molese vi spesano termina reti inviolate cioè 0 a 0 aquila montevarchi pontedera finisce 1 a 2 toscani in gol con nicastro al diciannovesimo con i corregionali che capitolano al ventiquattresimo in controviete con cioffi che scarta tutti compreso il portiere il gol del raddoppio è davvero bello da vedersi al 73esimo cerasani e corciale distanze con questa grande conclusione ma non basta a montevarchi pontedera 2 aquila montevarchi 1 tre punti fondamentali per la squadra ospite la lucchese conferma di essere una bestia nera delle grandi pareggiando 1 a 1 sul bello rettangolo di gioco dell'entella al trentesimo è mastalli per i rossoneri di toscana con questo piatto a superare il portiere della squadra di casa che trova il il pareggio nel finale al 46esimo del secondo tempo questo gran tiro al volo di favale entella lucchese 1 a 1 blitz della torres di sassari che vince 1 a 0 in casa della carrarese ci vuole un calcio di rigore al trentanovesimo della prima fazione realizzato da scappini autori sempre di gol importanti in fatto di raccolto per il club sardo a carrara torres 1 carrarese 0 tre reti e tre punti importantissimi in classifica per l'ancona che ha superato e surclassato l'alessandria fine primo tempo secondo minuto recupero contropiede controllo e gran tiro sul primo palo rete di deramo gol d'autore e dediche in tribuna clamoroso errore difensivo sfruttato alla grande dalla formazione marchigiana che raddoppia a inizio del secondo tempo gol di moretti al sesto minuto ancora 2 al sandria 0 che diventa 3 a 0 al 44esimo con mattioli bravissimo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto ed è una grande boccata d'ossigeno per i rossi delle marche al bruno nespoli di olbia succede tutto nel secondo tempo dopo che il primo è terminato 0 0 al cinquantesimo gol di sbaffo contro tempo preso il portiere di testa e palla in rete gol della re canatese brignani per la formazione della costa smeralda pareggia al volo con questo gol all'ottantesimo finisce in parità 1 a 1 serie c girone c la fai finita è stato lui andiamo con le immagini con la vittoria del catanzaro che liquida con roboante 4 a 1 la virtus francavilla al diciassettesimo yemmello sblocca la gara quando sul lungo lancio di siti in verticale supera portiere difensore per l'uno a zero la virtus accusa il colpo e al trentaduesimo bombaggi raddoppia andando ad infilare alle spalle di avella e ancora bombaggi al sessantacinquesimo ad andare in rete questa volta da calcio piazzato per l'attaccante sardo batte a rete di testa cala il poker all'ottantaduesimo curcio andando in rete al termine di un'azione sviluppata si dà alla sinistra la virtus segna il gol della bandiera a pochi minuti al triplice fisco con cardoselli all'ottantasettesimo in rovesciata per il 4 a 1 finale un crotone in piena emergenza espugna il monterisi battendo di misura per 1 a 0 l'audace cerignola decisiva la rete al 26esimo del secondo tempo di agua servito da roies dopo un'azione iniziata da chirico successo importante per il crotone che sale a 41 punti in classifica torna al successo anche la usb lo fa di misura ai danni della fidelis andrea decisivo il gol all'ottantunesimo di testa di pandolfi che manda il pallone all'incrocio dei pali partita incredibile al partenio lombardi di avellino con la vittoria del giuliano del 3 a 2 sul foggia al decimo minuto dei giochi i padroni di casa sbloccano subito il risultato con bel sinistro di rizzo passano 5 minuti al secondo tempo e il giuliano raddoppia su un tiro cross dalla sinistra il portiere del foggia interviene male e tiene la palla al centro dell'area trovando di dio che non sbaglia l'occasione il foggia reagisce al settantunesimo e accorcia le distanze grazie a frigerio di testa al novantaduesimo il foggia trova incredibilmente il pari con tonin ma è solo un'illusione quando la gara sembra doversi chiudere sul pari il giuliano passa in vantaggio grazie al gol di salvelini a tu per tu con dalmaso segna il 3 a 2 finale altra vittoria di misura il turno del picerno che supera il messina 1 a 0 il gol che decide l'incontro arriva al trentasettesimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone arriva sui piedi di Walter Guerra che spara dalla lunga distanza sorprendendo Lewandowski in preciso nell'intervento il potenza conquista il primo successo esterno in questo campionato battendo il monopoli per 2 a 1 gara che si sblocca poco oltre il quarto d'ora con Gasparini che passa a Caturano che non sbaglia per l'1 a 0 a favore della potenza raddoppio che arriva poco oltre la mezz'ora con Di Grazia che approfitta di un regalo della difesa a Bianco Verde nel finale c'è tempo per il gol del monopoli con Manzari che di Mancino riapre la gara ma non c'è nulla da fare per il monopoli che perde 2 a 1 sul potenza allo stadio Rocchi di Viterbo il Monterosi si aggiudica il derby contro la Viterbese per 2 a 1 dopo un primo tempo con poche emozioni il Monterosi tuccia la sblocca nel secondo tempo passando in vantaggio al cinquantottesimo con Tartaglia ci pensa Marotta al 66esimo a riportare la Viterbese la parità raccogliendo un palone vacante al limite dell'area sembra tutto fino ma il Monterosi tuccia ci crede di più al novantesimo trova il gol con Costantino per il 2 a 1 finale Nel match del Monday Night conquista tre punti pesanti il Taranto vincendo in trasferta sulla Pescara per 2 a 0 succede tutto nel primo tempo la gara si sblocca prima al 34esimo su una punizione di 30 metri diretta sul secondo palo Antonini fa la torre per il compagno di squadra Manetta che è lesto ad infilare in rete prima dell'intervallo raddoppia il Taranto su un cross ben calibrato dalla sinistra da due passi Tomassini stacca in mezzo a due giocatori nulla da fare per Pizzari per il 2 a 0 a favore del Taranto L'Avellino fa sua la partita contro la Turis per 3 a 1 al 28esimo arriva la rete del vantaggio bianco verde grazie a Fabio Tito dalla lunga distanza 4 minuti più tardi il raddoppio dell'Avellino Diego Gambale anticipa tutti e di testa sorprende l'estremo difensore Corallino per il 2 a 0 la Turis non si scomponi e al minuto 37 accorcia le distanze sul secondo corner in favore dei Corallini Riccardo Maniera è più lesso di tutti e insacca le spalle di Pane L'Avellino cala il Tris sempre con Tito che riceve la sfera sul tentativo di allontanamento e segna il 3 a 1 finale a favore dell'Avellino Secondo di silenzio? Abbiamo lasciato da parte anche Babbo Natale Meno male lo dico io! No, meno male, dico meno male che c'è l'uomo della notte Cristiano si meti Buonanotte! Attenzione! Cristiano, fai il bravo un attimo Rimetti la maglia di Tony dove stavi Io mi ero avuto, sono molto scaramantico Abbiamo fatto tutte le puntate a mezzanotte Tu la maglia di Tony No, 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 no Io sono serio, Cristiano per favore modificala Poi ci torni a trovare No, ma L'ho fatto proprio per variare Per cambiare un altro sport Ma non serve variare Cristiano Allora mi alzo a mezzanotte Mi sono scaramantico Mi sento male veramente Francesco Dalla prossima giuro che la rimetto Vabbè, non ti prego Cristiano per favore Allora Cristiano torniamo a noi Dov'hai? Quali sono i volti di questo mondiale? Secondo te? Noi ne abbiamo detti due I due sono Mbappé e Bono Secondo te? Giusti, giusti Però oggi non si può non partire da Gonzalo Ramos Che ha fatto tre gol Uno più bello dell'altro, secondo me Doveva raccogliere le realtà di un bomber come Ronaldo Titolare agli ottavi di finale Non aveva mai giocato fino a questo momento Titolare Non solo da centravanti Ma proprio nel ruolo di Ronaldo Le pressioni non erano poche E quindi segnare tre gol Il primo soprattutto fantastico da bomber vero 21 anni, classe 2002 Quindi veramente un ragazzo con grandi prospettive E qui secondo me c'è da sottolineare anche la scuola del Benfica Che è veramente un distributore di talenti straordinari Perché nel Portogallo stesso Cancelo viene dal Benfica Lo stesso Bernardo Silva Joe Felix Anche lui dal Benfica Che anche oggi ha fatto una grande prestazione Joe Felix Secondo me anche lui è uno dei volti di questo Portogallo Perché sembra un altro giocatore rispetto a quando gioca con l'Atletico E questo lascia pensare molto anche sul modo di giocare che ha Simeone Che secondo me non mette in luce il talento di Joe Felix Che secondo me è veramente un fenomeno Poi anche Leao secondo me è un volto di questo mondiale Perché nonostante abbia pochi minuti a disposizione Però quando entra fa sempre grandi cose C'è già due gol dalla panchina e oggi ha fatto un gol straordinario Quindi nel Portogallo c'è veramente tanto tanto materiale E se poi dobbiamo parlare della partita della Spagna Invece sicuramente come avete detto voi Il volto di questo mondiale è buono Sicuramente le delusioni della Spagna sono tante Non solo per i calci di rigore sbagliati Ma anche per le poche occasioni create nei 90 minuti E nei 120 se consideriamo i supplementari Un Marocco veramente di grande personalità Che impensierirà anche il Portogallo Giocatori come Achimi, Zie Anche il Marocco devo dire che È messo bene Posso essere una sorpresa Ma non fino a questo punto Una scuola veramente ben assortita Fresca con tanto talento Guarda io sono d'accordo con te Ma a questo punto vorrei anche ricapitolare Come sta andando questo mondiale Anzi ti dirò di più Si pensa negli anni a venire Di aumentare il numero delle squadre Di fare delle rivoluzioni Anche per movimentare questo calcio Facciamo il punto con il servizio di Lorenzo Petrucci Mondiali in Italia Quando? Dal 1990 l'Italia non si è mai più candidata Per l'assegnazione dei mondiali di calcio Colpa soprattutto di impianti vecchi e inadeguati Ad ospitare la massima competizione internazionale Di sicuro bisognerà attendere ancora molti anni Una possibilità potrebbe essere il 2034 Sempre che il nostro paese non riesca ad aggiudicarsi Gli europei del 2032 Per i quali è stata ufficializzata la candidatura In quel caso la data per un'eventuale assegnazione Dei mondiali slitterebbe ulteriormente Per gli europei del 2032 L'Italia spera di ottenere l'ok dalla UEFA Sfruttando l'ottima organizzazione Messa in mostra nelle quattro gare Ospitate a Roma Per l'edizione itinerante di Euro 2020 E perché soprattutto non ospita Un torneo continentale dal 1960 La scelta della FIGC di puntare sul torneo più lontano nel tempo È motivata dal fatto di avere uno spazio temporale più ampio Per portare avanti un programma di ammodernamento degli impianti Sul territorio nazionale Attraverso la costruzione di nuovi stati E la ristrutturazione di quelli già esistenti Il cronoprogramma della UEFA Prevede la presentazione del progetto di candidatura Entro il 12 aprile del 2023 Con la decisione definitiva del comitato esecutivo Nel mese di settembre dello stesso anno Nel frattempo la UEFA ha comunicato la scelta Delle sedi delle semifinali e finali Della prossima edizione della Final Four di National League Le semifinali e le finali si svolgeranno Dal 14 al 18 giugno prossimo in Olanda Lo ha confermato la UEFA Gli azzuri giocheranno le chance contro i padroni di casa Gli orange contro la Spagna e contro la Croazia Le due semifinali si giocheranno mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023 La finale terza e quarto posto E la finale sono in programma per domenica 18 giugno Un'ottima occasione per l'Italia di tornare in alto Dopo la doppia non qualificazione ai mondiali di calcio Questa è già una situazione Questo è come l'Italia potrà organizzare Se potrà organizzare Che significa infrastrutture, stadi e cose belle Ma ci vorrà del tempo come ha spiegato Lorenzo Petrucci Quello che dicevamo prima Ossia l'andamento del mondiale e le rivoluzioni Tra l'altro Lorenzo mi spiegava Questa mattina Mentre ero in precinto di preparare anche un articolo di Tag24 Quindi seguiteci su Tag24 Beoni Cusano Perché ha scritto tutto lì Che cosa? Che addirittura si pensava ai calci di rigore Per le partite che finiscono in parità Durante la fase a Gironi Quindi non a terminazione diretta Questa sarebbe una grande rivoluzione Grande cosa anche perché ciò movimenterebbe un po' Questo calcio che sta diventando un pochino più piatto Dove non ci sono tanti gol E anche secondo il report della FIFA Fatto ultimamente Questo donerebbe anche più spettatori Visibilità perché non viene più visto La gente guarda solo gli highlights I giovani adesso stanno guardando molto di più gli highlights Rispetto alle partite per intero A questo punto Francesco Sei d'accordo che questo aiuterebbe a smovimentare un calcio diventato statico? Sì aiuterebbe però si introdurrebbe ancora un'altra novità Che appesentirebbe anche la condizione psicofisica dei calciatori Abbiamo già visto in questo mondiale dei recuperi extra large Se ci dovessimo mettere anche i calci di rigore Già nella fase a gironi diventerebbe tutto più pesante Però se si deve fare per migliorare e aumentare lo spettacolo Va bene Dipende con quale obiettivo Lo si faccia Cosa ne pensi tu invece Cristiano? Dacci anche poi una panoramica E vedremo anche la grafica un'altra volta Per quanto riguarda questi quarti di finale del mondiale Siamo quasi arrivati alla fine del mondiale Ritando e scherzando Il mondiale è finito Finito Sul discorso di movimentare Sicuramente ci sono tante idee Anche per quanto riguarda magari un nuovo format della Champions Io credo che comunque questo mondiale stia regalando spettacolo Non in tutte le partite Ci sono state partite soprattutto nei gironi un po' più combattute Statiche anche un po' più tattiche Però ricordiamo il 7 a 0 della Spagna Lo stesso 6 a 1 d'oggi del Portogallo Ieri il Brasile ha dato spettacolo Quindi comunque i gol non sono mancati sicuramente Per quanto riguarda i quarti Adesso ci iniziamo a divertire Perché Tolto secondo me Croazia-Brasile Che a mio avviso Credo sia la partita un po' più Salvo sorprese clamorose Il Brasile dovrebbe vincere Credo agevolmente per quello visto anche ieri Perché onestamente gioca un calcio spettacolare E la cosa straordinaria di questo Brasile È che fa un calcio spettacolo Dal centrocampo in avanti Ma anche molto solida Perché subisce pochissimi gol Vado a memoria Non ha subiti forse due In questo mondiale Quindi Comunque Non è il solito Brasile Che segna Ma subisce È un Brasile che segna Ma che dietro È compatto È solido Ha i due centrali migliori Della competizione Tiago Silva Ieri in versione Anche Assisman Quindi comunque Credo che da questo punto di vista Sia la squadra più completa E possa avere vita facile Anche con la Croazia Le altre partite Sono veramente molto difficili Da pronosticare Perché Inghilterra-Francia Poteva tranquillamente Essere anche una finale Di questo mondiale Visto il potenziale Soprattutto offensivo Delle due squadre Soprattutto Chiaramente Riflettori puntati su Mbappé Puntati su Foden Su Kane Però Io sono molto curioso Anche di vedere il duello In mezzo al campo Tra Chiameni e Bellingham Chiameni 2000 Bellingham 2003 Secondo me sono Il futuro E anche il presente Del calcio europeo Perché stanno veramente dominando Con caratteristiche diverse Però Bellingham È stato Partecipe In entrambi In entrambi i golli I primi due gol Dell'Inghilterra Assis per Anderson E nel secondo gol Ha di fatto Passato via Tre quattro avversari E sta veramente dominando In lungo e in largo Ed è un 2003 Sottolineo Chiameni Ricordo che quest'anno È arrivata a Real Madrid Per Cento milioni Ottanta più bonus Si è messo al fianco Di Modric C'è cross Gioca già da veterano Ha preso le redini Al posto di Casemiro Arriva nella Francia Senza Senza Pogba Senza Cantè Diventa il titolare Inamovibile Con questa tranquillità Io onestamente sono Sono piacevolmente sorpreso Per il talento di questo ragazzo Quindi credo che la partita Si giocherà anche molto Tra questo duello Tra Chiameni e Bellingham Per quanto riguarda il Portogallo Visto anche la partita di oggi Anche il Portogallo Magari potrebbe essere Leggermente favorito Ma abbiamo detto prima Il Marocco è una squadra Che gioca bene a calcio E ha individualità importanti Il Marocco è ostica come squadra A differenza di tante altre Cioè ti fa trovare la difficoltà Va a lavorare sulla difficoltà E questo è anche dato Ti costringo a giocare male È vero Si È anche dato Secondo me Dallo stesso mister Che riesce a vedere la situazione A studiarla direttamente Con il proprio match analyst E poi a trarre le giuste somme E ricordiamo in questo caso Il Marocco per ora Per ora È la miglior difesa Ai quarti di finale Poi abbiamo l'Olanda Poi abbiamo il Portogallo In Inghilterra E il Brasile Con tre gol subiti Non è male E questa è una bella statistica No? Non è assolutamente male Sì, sì Il Marocco Un solo gol subito Tra l'altro contro il Canada Che casualità Non ha neanche superato i gironi In una partita ormai Comunque archiviata Zero gol subiti con la Croazia Zero gol subiti col Belgio Zero gol con la Spagna Insomma di avversari Importanti ne ha affrontati Il Marocco già E devo dire che Sta veramente Sia per l'organizzazione Sia per l'organizzazione Ma anche per l'individualità Perché comunque Giocatori come Hakimi, Zia e ci sono giocatori Di assoluto livello internazionale Quindi possono fare la differenza In qualsiasi momento Olanda-Argentina Credo che possa essere Una delle partite più equilibrate E che rischi anche di Terminare oltre i 90 minuti Perché è vero che l'Argentina È andata a crescere In questo mondiale A parte la prima partita Contro l'Arabia Solita Poi è stato un crescendo Però l'Olanda è una squadra Molto compatta Lo dicevamo l'altra volta Ha delle individualità importanti Da Van Dijk A De Jong Gakpo la sorpresa Però è tornato a segnare De Pai Lo dicevamo l'altra volta Se ritorna anche De Pai Questa squadra può dire la sua De Pai è tornato a segnare Dumfries Due assist e un gol Blind dall'altro lato Quindi anche sulle corsie Trovano gol Trovano assist Quindi insomma L'Olanda è ben assortita E per l'Argentina Non sarà assolutamente Un avversario valide Però Devo pronosticare Io penso che possa passare All'Argentina Però hai fatto un nome importante Secondo me Quello di Dumfries L'Inter A questo punto Visto anche come sta giocando E quello che ha fatto A Catarra 2022 Dovrebbe rilanciarlo Magari fuori O dovrebbe tenerselo Visto anche Questo gioco Quindi blindarlo Blindarlo A me lo deve blindare Un punto di forza Dell'Inter Sono le azioni Sull'esterno E prima Parlavamo anche Della Croazia Tra l'altro E non abbiamo nominato Un giocatore Dice Ne aggiungeresti Un altro Perisic È vero E dall'altra parte Dunfries Gli esterni dell'Inter Se hai quei nomi lì Non te ne devi privare Soprattutto a stagione in corso Di Perisic Però se ne è privata È andato al Tottenham Comunque Ora si è passato Però dico Se hai questo tipo di giocatori Ricordiamo che l'Inter Trova che uno l'ha perso E uno ce l'ha perso Ha preso Ha preso Dunfries Dopo che ha ceduto A Kimi Non era messa malissimo Sulla destra Cristiano Però attenzione Il mondiale In chiave fantacalcistica Perché adesso Non apro l'applicazione Ma mancano una ventina di giorni Più o meno Al ritorno Sì Vabbè Comunque Siamo lì Da quei 52 Che sembrava una montagna È vero Già sto piangendo al ricordo È una cosa tremenda È una cosa tremenda Come si sta preparando Nel senso In teoria Calciatori di nazionalità italiana Che si sono allenati Hanno fatto delle tournee anche Sono avvantaggiati in questo Cioè Che prima di giornata Troveremo al ritorno Al campionato il 4 O è ancora presto per dirlo Ah Questa è una bella domanda Perché comunque Il dubbio era proprio questo Prima del mondiale Cioè capire se Il vantaggio fosse più Per chi riposava E quindi magari Aveva una preparazione Diverso Per chi andava al mondiale Io credo che Per giocatori come Lukaku Ad esempio Che erano fermi A tanto tempo Credo che sia stato meglio Farlo questo mondiale A prescindere Per ritrovare un po' La condizione La confidenza col campo E soprattutto Minutaggio In partite che contano Quindi Nella situazione di Lukaku Come poteva essere anche Quella di Dybala Che però in questo momento Non sta giocando Ma spero per lui Possa trovare minuti Credo che sia importante Farlo il mondiale Sicuramente Per altri giocatori Può essere difficile Ritrovare subito Il ritmo Partita Dopo un mondiale Di questo tipo Così intenso Senza pause Perché di fatto Ora ci sarà la prima pausa Dopo 17 giorni filati Quindi Dipende anche un po' Dalle caratteristiche Dei giocatori Ci sono giocatori Un po' più pesanti Un po' più fisici Che magari hanno Recuperi diversi E giocatori invece Un po' più leggeri Che hanno più facilità A recuperare Però è anche un mondiale Di tanti giovani Tantissimi giovani Che stanno prendendo il comando Quindi credo che Giocatori del 2000 Del 99 2001 Non abbiano poi Tutta questa difficoltà A ritrovare una condizione Mi piace che giovani Intagni anche quelli Del 99 Perché ultimamente Si fa fatica A pensare che il 99 Sia ancora Definibile Giovane Grazie davvero In altre nazioni Sei già bello Che è andato Grazie davvero Per questa Veramente Disamina Che abbiamo fatto Insieme E soprattutto Il fantacalcio Manca 98 giorni Torneremo a parlarne Qui sulla nostra Rete Di Serie A E di quei nomi Con Cristiano Simeti Attenzione Cristiano Perché noi Stiamo lasciando da parte Un tema molto importante Quello del calcio mercato Ma ci arriveremo Ci arriveremo Quindi Ci siamo Ci siamo Eh bravo Tieniti preparato Perché tra poco Tra poco Ne parleremo Nelle prossime settimane Perché i nomi Stanno uscendo Piano piano Però adesso Ciao Cristiano Buonanotte Grazie A voi ragazzi Alla prossima Grazie mille Allora Grazie anche a Francesco Grazie a voi Ci ritroviamo Nelle prossime settimane Va bene Allora Spero di sì Volentieri Basta Francesco Ecco qua Allora Ascolta Ascolta Sì l'ho sentito L'ho sentito Fa rumore Sei contentissimo Bene Noi ringraziamo Anche oggi Per averci seguito Grazie davvero A voi Che da casa State lì Con il telecomando Da abbassare Quando parla Francesco Invece alzare Quando parla Deborah Perché Francesco Ne dice tante Oggi è stanco Viva i bambolotti Ok Ci siamo Questa è Parte di Cose di calcio Ultimo Rush Con Francesco Ciao 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 Buonanotte Ciao 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 ciao